Salve amici e benvenuti anche oggi sul canale per un nuovo video. Oggi volevo parlare del video di Falconero, abbastanza scioccante, dove praticamente dichiara di rinunciare totalmente a uno dei vantaggi più grandi che stampa e content creator di una certa grandezza ovviamente hanno nel mondo dei videogiochi, ovvero quello di ricevere i codici in anteprima, i codici review. Quindi fondamentalmente Falconero tornerà come quando è iniziato al canale, come quando tutti iniziano magari a fare i content creator su un dato argomento, in questo caso specifico i videogiochi, in maniera totalmente indipendente perché chiaramente quando si è piccoli non si ha nessun legame di nessun tipo né con sponsor né tantomeno con publisher che vi forniscono chiavi o quant'altro e quindi sia appunto totalmente indipendente. Falcon in realtà già aveva fatto un passo verso questa sorta di indipendenza perché aveva già rinunciato alle sponsor riguardanti l'ambito specifico dei videogiochi. Questo era successo credo un paio d'anni fa o qualcosa del genere. Ma questa decisione di rinunciare anche in maniera totale ai codici review è estremamente più pesante a mio avviso. E nonostante io, che comunque seguo Falconero, quindi sapevo che ultimamente magari aveva ricevuto qualche codice in meno, forse anche conseguenze di, che ne so, qualche battibecco con PR o conseguenze magari di quella sua scelta precedente, ecco comunque sono rimasto abbastanza colpito perché magari sì, ne aveva ricevute qualcuno in meno, però rinunciare totalmente a questo vantaggio competitivo che, diciamo così, publisher dispensano a stampar e grossi influencer, barla content creator, è comunque molto rilevante. Ovviamente mi fa molto piacere, cioè appoggio molto questa scelta perché fondamentalmente appunto lo fa tornare indietro come fosse uno di noi con nessun legame, quindi tutto quello che dirà ovviamente d'ora in poi non potrà essere mai tacciato appunto di qualsiasi forma di conflitto di interesse. Ovviamente questo non vuol dire che se uno è completamente indipendente ha sempre ragione su quello che dice, può dire anche delle stronzate atomiche. Dipende poi sempre dal contenuto di ogni singolo, diciamo, testo o video, quello che è e poi ogni singola cosa viene giudicata singolarmente, però diciamo che in linea di massima se tu hai zero rapporti di qualsiasi tipo con l'industria certamente, sicuramente, quella sarà al 100% la tua opinione. Cioè non c'è neanche il dubbio che non possa essere al 100% la tua opinione. Quindi con grande stupore, diciamo, ho appreso questa notizia e insomma lo supporto certamente. Questo potrebbe però far sorgere delle domande ovvero tipo cosa pensa veramente Falconero delle industrie dei videogiochi per aver preso una scelta di questo tipo. In realtà un po' l'ha spiegato però chiaramente è rimasto un pochino anche sul vago. Semplicemente ha detto che non condivide più come diciamo sta andando, come si sta muovendo, diciamo così, il mondo dei producer, dei publisher e il modo con cui gestiscono probabilmente queste chiavi review o comunque in generale il marketing del mondo videoludico. Però diciamo un discorso un po' generico ovviamente quindi non siamo andati molto nello specifico. Questa decisione comunque è molto molto impattante a mio avviso perché il vantaggio effettivamente competitivo, diciamo così, di avere una chiave in anteprima e quindi poter uscire all'embargo e di solito è tre, quattro giorni prima la data di uscito di un gioco o avere la possibilità di essere chiamato privatamente per vedere anteprime anche mesi prima e quindi poterne parlare anche lì qualche giorno prima che poi le notizie siano pubbliche è un vantaggio molto molto importante. E questo supera qualsiasi diciamo attaccamento della community al singolo creator cioè per esempio caso specifico appunto Falconero ha una community molto grande stiamo parlando di più di 200.000 iscritti ma anche molto fidelizzata, ok? Perché lui ha fatto un ottimo lavoro sulla sua community di fidelizzazione quindi qualcuno potrebbe pensare vabbè ma che gran differenza fa tanto anche se fa uscire una recensione tre settimane dopo invece di tre giorni prima dell'uscita non cambia nulla fa lo stesso sui numeri. Sì ragazzi ma no cioè non farà mai i stessi numeri è statisticamente certo questo è difficile fare una prova del 9 perché poi ogni gioco è diverso ogni situazione anche di mercato e di hype sui vari giochi è diversa guardate per esempio adesso che differenza tra le recensioni che ne so di Rise of the Ronin e Dragon's Dogma 2 uno praticamente non cagato quasi di striscio cioè Rise of the Ronin l'altro se ne parla tantissimo ma comunque uscir prima è oggettivamente un vantaggio incredibile perché puoi essere grande quanto vuoi ma ci saranno sempre tante persone che non ti conoscono sempre e quindi quando tu esci prima dell'uscita del gioco intercetti certamente sempre sicuro gente nuova quindi è certamente un vantaggio non è mai un vantaggio uscire dopo e questo è il manico del coltello che hanno i publisher che selezionano sempre una cerchia di persone influencer ovviamente con numeri importanti o ovviamente la stampa per fare provare le cose per fargli recensire le cose per far parlare del proprio gioco e anche se poi c'è la massima buona fede di tutti vuoi o non vuoi quando si parla di un gioco soprattutto prima dell'uscita in qualche modo stai facendo pubblicità cioè lo faccio di fatto anche io anche se non prendo un euro da nessuno ma quando io vi parlo di un gioco che mi interessa e magari faccio tanti video perché mi interessa io in maniera indiretta vi sto facendo una sorta di pubblicità a quel gioco anche se a me non me ne viene niente ok? è così ma lo facciamo tutti anche quando voi parlate con i vostri amici di un gioco che state aspettando state facendo pubblicità a quel gioco ok? però nel caso ovviamente di creator magari anche creator con appunto numeri molto grossi questo è rilevante non solo a livello di pubblico continua crescita ma anche banalmente a livello monetario più visualizzazioni più soldi se si va oltre le chiavi ricevute prima più sponsorizzazione più soldi in quel caso molti molti più soldi perché nel mondo delle sponsorizzazioni a seconda ovviamente di quanto si è grossi insomma volano i soldi anche molto più chiaramente molto di più in realtà di quello che si possa fare banalmente con le views di youtube quindi è una decisione molto molto importante e spero che possa avere un impatto nel panorama ovviamente italiano anche se ahimè ragazzi io sono un po' cinico in generale nella vita non credo che avrà questo grosso impatto anche perché parliamoci chiaro quanti sono quelli che fanno diciamo così video di un certo livello critico sul mondo dei videogiochi e che hanno dei numeri importanti in Italia pochi molto pochi molto pochi e anche se tutti questi pochi decidessero di rinunciare diciamo così alle chiavi review in effetti cosa cambierebbe realmente cioè farebbe magari la felicità di una parte di pubblico forse forse proprio i più appassionati quelli che proprio ci tengono di più a questa cosa della totale pulizia indipendenza ma sui grandi numeri sul grande pubblico avrebbe un impatto boh secondo me non tantissimo quindi insomma è super lodabile questa scelta ma non so se avrà qualche grosso impatto anche perché vi ripeto ragazzi questi diciamo privilegi di fatto che danno i publisher con soprattutto quelle chiavi review sono molto rilevanti soprattutto anche per quelli che vogliono crescere proprio perché danno molta più visibilità sul singolo spot sul singolo gioco in questo caso che viene appunto recensito o si fa un'anteprima o si fa una guida quello che è e a maggior ragione se uno ha un pubblico più limitato è difficile che una volta che riesce ad arrivare in quello status possa rinunciare a questo vantaggio ed è ancora più difficile che chi ha un grande vantaggio di grandi numeri possa a sua volta comunque rinunciare anch'esso anche se potenzialmente potrebbe dato che è già uno status così solido vorrebbe dire rinunciare probabilmente a qualche centinaio di euro in più e un pochino di crescita in più però se si è già molto grossi e solidi si potrebbe pure fare se invece vi chiedete qual è la mia idea per questo canale quindi per me stesso rispetto a accettare sponsorizzazioni eventualmente nel futuro o appunto ricevere chiavi review vi vorrei dire che diciamo che la mia situazione è un po' particolare nel senso che io appunto faccio questi video faccio questo content creation sul gaming per veramente pura passione ragazzi non mi interessa particolarmente quindi vi posso assicurare che di sponsor vere e proprie di videogiochi molto probabilmente non ne accetterò praticamente mai perché lato strettamente economico non mi interessa più di tanto e non perché mi fanno schifo i soldi ma preferisco comunque rimanere con una monetizzazione semplicemente sui contenuti rispetto a appunto dare adito a qualsiasi tipo di conflitto di interesse all'interno del mondo appunto dei videogiochi banalmente io non ho diciamo alcun problema economico e non l'ho mai avuto e spero che non l'avrò mai e appunto questa che faccio su youtube è pura pura hobby quindi non mi servono dei soldi in più dalle sponsor per quanto invece riguarda avere le chiavi in anticipo chiaramente è un grande vantaggio ora onestamente mi è capitato una sola volta e giusto giusto tipo il mese scorso con banisher letteralmente mi hanno mandato una chiave tipo mi hanno detto la vuoi sta chiave e io ho detto boh non mi era mai capitato sì e loro mi hanno mandato la chiave tipo una settimana prima e mi hanno detto vabbè basta che non parli del gioco prima di xdata ciao fine del mio rapporto e alla fine poi è uscito anche una recensione e un gameplay in realtà ho fatto solo due video ho accettato perché letteralmente era un gioco che volevo giocare e avrei comunque comprato e mi è capitato questa cosa l'ho fatta ma in realtà su questo punto di vista non lo so ditemi voi perché io potrei anche completamente rinunciare a qualsiasi chiave review in anticipo in realtà non mi cambierebbe tanto in realtà cambierebbe perché favorisce la crescita chiaramente avere prima come ho detto i codici favorisce intercettare più pubblico che non è il tuo pubblico perché sta cercando quel contenuto e arrivare prima è un gran suo vantaggio però ragazzi fatemi sapere voi perché oggettivamente io potrei anche mai più accettare una chiave review che probabilmente arriveranno perché più si cresce diciamo con la visibilità e con i numeri più diciamo la mail comincia a diventare popolata appunto di richieste quindi quando siete piccolini non vi caga nessuno poi piano piano vi cagano sempre di più ecco sulle chiavi review diciamo sono un po' così però potrei anche se mi fate sapere decidere di proprio mai accettarle vi ripeto l'impatto che potrei dare io con una mia decisione è zero ok quindi sti cazzi a livello di content creation italiano ovviamente mentre effettivamente quello che ha fatto Falco è importante molto importante vediamo anche nel prossimo futuro quanto se ne parlerà perché sono curioso di vedere anche i grossi content creator se affronteranno questo argomento non necessariamente appunto cambiando una linea propria editoriale su questa cosa specifica ma anche solo parlarne sarebbe interessante cioè ampliare il discorso fare sentire più voci perché chiaramente le voci di chi ha 800.000 iscritti 400.000 iscritti sono più forti di discussioni di piccoli canali indipendenti da 5.000 10.000 iscritti questo mi sembra che sia ovvio detto questo ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti perché sono curioso e noi comunque ci becchiamo prossimamente sempre a parlare di gaming qua su questo canale in maniera certamente indipendente voi statemi sempre bene e ci becchiamo alla prossima ciao ciao ciao